Passa su fifagoin.com e acquista i tuoi crediti a prezzi bassissimi E con il codice Michael 5% di sconto, link in descrizione Ragazzi vi aspetto oggi in live per aprire i premi della Weekend League I sub sul canale Discord avranno una precedenza ma lo aprirò a tutti Quindi passate Purtroppo la Horror Night di questa sera è saltata Ma non dovrete aspettare troppo per vedere la serie di Little Hope Ma soprattutto mettetevi la sveglia Perché lunedì iniziamo la nuova serie su Watch Dogs Legion Non potete mancare Salve a tutti ragazzi e bentornati di amici Siamo tornati con la modalità carriera di FIFA 21 E vi ringrazio per tutto il supporto che state lasciando a questa serie È veramente pazzesca In tendenza gaming siamo sempre secondi Speriamo che non sia un presagio per come finiremo il campionato E nell'ultima puntata di nuovo abbiamo superato quasi 60.000 mi piace E allora ragazzi qui c'è bisogno di scegliere il nome che metteremo dietro la nostra maglia dell'Arsenal Allora qua ragazzi Tanti io lo so l'andazzo come va Scusate del rito È un po' perché mi sto a guardare Sembro un limone vestito da sì Se questo video supererà 100.000 mi piace Il nome dietro alla maglia dell'Arsenal sarà quello di Pazzondaga Ragazzi Oh ma a parte che noi stiamo a rite ragazzi Io sta cosa non la sapevo Ragazzi ma Daga nella realtà è un fenomeno C'è tipo un gol ogni 64 minuti C'è qualcosa d'assurdo Esposa perfettamente quello che è l'ideale di questa carriera Abbiamo vinto nella scorsa puntata il community shield Ma è poca roba È robetta in confronto a quello che vogliamo fare Noi vogliamo riportare l'Arsenal agli antichi fasti E per farlo abbiamo scelto la strada più difficile ma più appagante Perché vogliamo puntare su dei giovani Che ci possano permettere sia di competere Che però ragazzi tutti possono crescere Possono essere veramente forti Tipo Kamavinga E ci abbiamo il prodotto della cantera Occhio a questo 5 piede debole 4 abilità Pazzo 94 fisico Però ragazzi abbiamo ancora 62 milioni da spendere nel calciomercato Tutto a costo a disposizione Inizia il campionato e la primissima partita è contro il Tottenham E il derby la rivalità più accesa per i tifosi dell'Arsenal Quindi ragazzi direi di iniziare Intanto Saul al Manchester City Ce la giocheremo Come sapete quelle più importanti le giocherò io Vediamo un po' la formazione Perché secondo me in base alla loro formazione Noi ci potremmo schierare in maniera diversa Guardate Kim Pepe So Nalli Kane Lucas Moura Questa è una bella squadra Inizia oggi La Premier League E inizia dall'Emirate Stadium Con una partita non banale Arsenal contro Tottenham Il Nord London Derby Si affrontano due squadre che sono racchiose in un fazzoletto Pensate che la distanza tra l'Emirate Stadium E il nuovo stadio del Tottenham è solamente 6 km Quindi capirete il perché c'è una certa rivalità territoriale Tra queste due squadre Inizia il campionato dell'Arsenal con una vittoria nel community shield La fiducia è al massimo Riuscirà l'Arsenal a tornare agli antichi fasti Schiera una formazione tutta completamente nuova Rivoluzionata dal mercato E dall'arrivo di Mister Spettacolo La formazione base Questa possiamo intenderla come quella tipo Il capitano è Pierre-Emerick Aubameyang Che ha buttato giù diverse offerte Per restare qui nel nord di Londra Tifosi che apprezzano Si scambiano i saluti di Rito Le due squadre Tottenham che schiera Una formazione veramente molto offensiva Piena di giocatori interessanti Kim Pepe è il nuovo acquisto Che si va a schierare insieme a Toby Alderweil Tra l'altro hanno salutato Vertonghen Che è andato al Benfica Un po' strana sta cosa Una maglia oggettivamente orribile Ma siamo pronti a iniziare ragazzi Inizia oggi la nostra rincorsa Forza Pierre-Emerick Impanca tanti volti nuovi Per l'Arsenal Ma soprattutto ragazzi In campo c'è lui Le Pepit Ho scoperto che si dice Le Pepit Ok La Pepita L'oro di Lione Che da oggi è l'oro di Londra Eccolo Troppo chiuso sto Tottenham Mourinho Style Ragazzi guardate quanto stanno chiusi What the fuck Ok è a Weekend League Vedete Bios Ragazzi stanno chiusi Saranno chiusissimi Sarà una partita tostissima questa Occhio le ripartenze Questa ragazzi è una squadra plasmata Eccola A immagine e somiglianza del gioco di Mourinho Bravo Pamicano Subito votato Oddio Lucas Magajanesh Bravo Bravo Magajanesh Ci fa capire perché è stato scelto oggi Al posto di Saliba La Pepita Bella l'apertura verso Pepe Al volo Sebaios La Pepita La Pepita No Porca trota C'è un Bambiang che praticamente Naviga lì in mezzo Ma Ma loro vanno troppo indietro Vedete Fanno quasi la difesa Aspetta Aspetta No 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 Siamo stati assolutamente padroni del campo Cioè guardate ragazzi Vediamo se a metà primo tempo Se non la sblocchiamo Andiamo di due punte Eccolo L'hai ripresa L'hai ripresa L'hai ripresa Tranquillo Tranquillo Ce n'hai ancora te Thomas Party Thomas Party Uno due Niente ragazzi Tutto chiuso Traffico E albero fallo Quello è fallo albero Oh Signore Signore Allora Fuori William Dentro Pazzondaga Bravo Pamecano Ragazzi Che giocatore No Guarda che ho messo Guarda che ho messo Bravo Lo dobbiamo tenere però Oh Lo dobbiamo tenere però Oh Si sa che sta succedendo La verissima sprint Cazzata Bravo Diurni Ragazzi Settantesimo 20 minuti Cambio 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 nelle fila dell'arsenal Entra il numero 9 Pazzondaga Pazzondaga Al posto di William Doppia punta Per l'arsenal Forza Forza pazzo Ho Pepe dietro le punte Magari poi Lo cambieremo pure Oh Se vai Se vai Se no la prende Oh Pazzondaga Oh 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 Pazzondaga Ragazzi Segna 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 Il primo pallone Toccato Al primo pallone Toccato Subito Goal Pepe ha visto la luce Illuminato Guardalo Dritto per dritto Tutto quello che il Tottenham Non aveva fatto Fino a quel momento All'entrata di Pazzondaga Si scioglie come il burro Il maliano Con il destro Di potenza assoluta Murigno dice Ma come cazzo Se fa Sfoco Super Saiyan Eh no Pazzondaga Esulta come un pazzo Ercresi Ercresi Cioè ragazzi Ma noi abbiamo Due attaccanti Che fanno 93 93 Velocità Oddio che break Oddio che break Ci ha provato Pierre Velick Il capitano Il capitano Ci ha provato Dai Allora Esce Pepe Dentro Sopo Sly Vabbè ragazzi Dovevamo tenere la palla Dovevamo tenere la palla 93 93 Dai è finita arbitro Stavo un minuto su Stavo un minuto su Sì Ci portiamo a casa La prima vittoria Nel Nord London Derby Eh sì Attenzione Scoppe la rissa No 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 Scusate Henry Kane Che va a consolare I suoi giocatori C'è subito gloria Per mister spettacolo Daglie 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 Ragazzi Pazzondaga Un tiro Un gol Ha fatto solo quello Solo quello Gli chiede scusa Dice ragazzi Sono troppo forte Ma che ce posso fare Pazzondaga Non so che avete visto Voi di sta partita Perché taglierò tantissimo Ci sono stati Vedete Praticamente Non abbiamo fatto niente A parte una traversa E sta parata bella Gioco molto molto Tattico ragazzi Molto tattico Ma innanzitutto c'è da fare i complimenti ai ragazzi I ragazzi sono stati bravi Speravamo di iniziare così il nostro campionato Poi una vittoria nel derby Speriamo da adesso fino alla chiusura del calciomercato Di mettere a segno ancora qualche colpo Siamo ancora un cantiere in costruzione Ma alcuni giocatori mi stanno già dando certezze Quindi incrociamo le dita E continuiamo a lavorare Buona la prima ragazzi Ma guardate un po' C'è arrivata un'offerta per Tierney 32 milioni Ne posso chiedere fino a 53 Ma non sono proprio interessato a venderlo C'abbiamo un problema Se i terzini non me li vado a togliere Ah beh ma pure Pepe Ci hanno chiesto quanto Qua si rifiutano offerte Butto giù pure Pepe Poi è difficile andarli a rimpiazzare Sti giocatori Forse l'esterno pure pure Ma a proposito di esterni Io ho questa preoccupazione Guardate Eh questo ribalta un po' la situazione Perché Guardate un po' Aubameyang ragazzi è in decrescita Allora io ero preoccupato per lui in realtà Per William Vedete da 82 è già sceso a 81 E è il nostro titolare Ora A me sta bene Stare precedenza magari a un saga Avendo noi un bel po' di soldi Eh ma perché non ci andiamo a prendere appunto San Maximen Per la questione credibilità realtà Che un minimo ci potrebbe stare No pure se Vai dal Barcellona Chiedi Ansufati Non te lo venderanno mai Stessa cosa per Trincao Quindi Fino a 91 milioni No no Thomas Thomas è la mia diga Non lo venderò mai Cioè magari guardate In un altro momento Me lo sarei venduto E mi sarei andato a prendere un altro Ma Comunque raga abbiamo rifiutato 58 milioni E Altri tot per Pepe Lo strapotere Economico Andiamo a giocare Contro il Wolverhampton Occhio perché questi Non sono male Eh Non sono male Partita che però ci simuleremo Cioè con la nuova modalità In modo tale che possiamo anche Ghiacchierare Parlare E a Dama Travoli pure ragazzi Sarebbe bello da prendere Bello fomentante Il Wolverhampton Dei portoghesi È da tenere d'occhio Niente male Niente male Allora Ragazzi Tra l'altro Si gioca all'Emirate Stadium Ma anche se L'Arsenal Deve le sue fortune Il grande romanticismo Di questa squadra No è legato soprattutto Ad Aiburi No Il suo stadio precedente Bellissimo Aiburi Ragazzi Adesso è stato Demolito Per costruire Delle Agglomerati No Dei palazzi Upa Meccano Ci prova Uuuuh Salvataggio sulla linea Pensate Ragazzi Talmente romantico Ersan Wenger È una bellissima storia Storico allenatore Dell'Arsenal Dell'Arsenal Degli invincibili Insomma Quello l'ha portato Insomma Alla gloria Negli anni 2000 Quelli di cui Vi parlavo Dei francesi Tiara Ripi Res Viera E chi più ne ha Più ne metta Attenzione Questa palla Pensate Talmente romantico Che Demolito Aiburi Non voleva abbandonare La vista Che c'era Dalla sua posizione No Quella d'allenatore E quindi ha comprato Un appartamento Che Insomma Simulava la vista Che aveva lui Quando era allenatore Molto particolare Quindi uno Di quegli appartamenti 1 a 0 Appena Ci abitueremo A questo tipo di simulazione Vi racconterò un sacco Di quelle storie Fatte bene Però adesso Dobbiamo recuperare Sta partita 5 2 3 Sai che c'è ragazzi Scendo in campo io ragazzi Questo secondo tempo Scendo in campo io Bravo 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 Subito Taka Tocca il suo primo pallone Riparte Thomas Party Kamavinga Kamavinga Lo vede Aspetta troppo Troppo Aspettato Aubameyang Si deve un po' sbloccare Con Mr. Spettacolo Uh Oh vabbè Vabbè Pazzo Ah Eh ragazzi Questa è buona Questa è buona Questa è buona Soyuncu Maledetto Ti odio Dall'anno scorso Oddio Che numero Mi ha fatto questo Magaianes Bravo bravissimo Dai pazzo 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 Eh vabbè ragazzi Comunque Cioè Non è ancora fortissimo Bravo Questa è buona Questa è buona Porco Giuda Daga Dai cazzo No Me l'hanno toccata all'ultimo No No Leva quel piede Leva quel piede No Ma no Ma no Arsenal Ma no Spiace Spiace per i ragazzi Io Non ricordo Una parata di leno Spiace Aver perso Davanti ai nostri tifosi E In gata Spiace D'altronde Siamo una squadra giovane Che Pecca un po' Di Di esperienza Pecca ancora Di quelle ingenuità Che nel calzo Poi al fine Le paghi Chiedo sicuramente Pazienza Ai nostri tifosi Dobbiamo ancora Trovare I giusti meccanismi Dovamo ancora capire Su chi puntare Definitivamente E per la formazione Titolare Perché ho tanta scelta Ma Ho ancora qualche dubbio Quindi È una squadra giovane Che vive anche Di questi momenti Oggi ci hanno un c***o Domani Speriamo di In c***are noi Arsenal Deve rispondere Dopo il tonfo Giocare contro Il West Bromwich Con Ivanovic Leggenda Del Chelsea Oggi è il capitano Del West Brom Thousand Insomma Gente Che ha fatto la categoria Intanto Scappa Mi sembra che oggi Stia rispondendo bene Suo Boss Lai Tierney Fino alla fine L'EPT L'Aro di Londra 1-0 Risponde subito L'Arsenal Dopo 10 minuti Primo squillo Prestazione in colore La precedente Ma rientra un po' In quello che è L'Arsenal Ragazzi Una squadra giovane Piena di talenti Che però Potrebbe anche essere Discontinuo Il problema più grande Di questa formazione Tierney tutto libero Ancora Attacca sulla fascia Non riesce stavolta C'è da divertirsi Ragazzi Perché dobbiamo capire Come vogliamo affrontarla Sta carriera Con questa nuova modalità In cui puoi entrare sempre Quindi Potremmo Tipo demandare A loro La fase difensiva Poi quando stiamo in attacco In posizioni golose Oh oh Potremmo entrare noi Attenzione Beyorin Beyorin Fa tutto da solo Oh 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 Aguar Pazzondaga 2-0 Sopo Sly Proprio lui Schierato oggi Di titolare Alle spese Di E finisce così Gol scriptato Al 45esimo Bravo Thomas Part TIIIIII Pierre-Emerick Lancia illuminante Dell'EPT Oh Sta giocando Proprio bene Coso eh Il nostro Rivoluzione un po' L'attacco ragazzi Perché direi Che abbiamo fatto il nostro Adesso ci devono pensare I difensori Quindi ho messo Nketia E Martinelli Punte E il resto rimane così Nketia Ah 4-0 Ancora lui Loro 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 No no Vuole la tripletta Tierney Sale 3-5-0 Doppietta anche di Sopo Sly Mamma mia ragazzi West Browen West Browen C'ha annichilito Dal centrocampo Tutto Giovinezza e fantasia Gioventù Ma non è finita Oh non è finita Calcio di No calcio di niente 5-0 Rotondo Rotondo L'Arsenal Risponde così Alle critiche Piovute In settimana Forza Anche il Liverpool Batte il Litz 4-0 Riproverei a prendermi San Maxime Altro francese Ce l'avevamo già provato Era praticamente chiusa Poi è saltato Tutto il banco Per chi mi ha detto Mike ma non gli è dao Sill Ce l'abbiamo Se i soldi usiamoli Ah beh Mi ricordo questo qui Ma lui è un buonaccione Lui me l'aveva venduto Sostanzialmente Ah beh C'ho Chambers Callum Chambers Beh dai 35-7 42 Me levo Un giocatore che non mi serve E lo pago il giusto E avrei ancora altri soldi Per fare Colpi 51 dritti La questione è questa ragazzi Lo proviamo Poi se non ci piace Se fallisce Se non cresce 51 milioni Per forza Immaginiamo di rivendercelo Su una sessantina di milioni Denaro sonante Denaro sonante Forza dai Portiamoci a casa Anche quest'altro Fanchesino Ci ha fatto la nazionale francese Che però Ragazzi Se vi sembra strano Non dovrebbe Perché l'Arsenal Da tempo in memoria Da quando c'era L'Alsaziano Al Saint-Wengher Era proprio così C'è una colonia francese Guarda quanto è bello Ah si è portato lo zio lui Questa è facile Questa contrattazione è facile Ci viene sicuro Sicuro Abbi fede Che è regolare Gli do 60 E ci viene E se sta zitto Dai Guarda eh Oh no Si alza e se ne va E mi paghi pure la cena Allora 60 se li piglia Cosa? 15 collo 1.9 milione Ma guarda Volendo Te li potrei pure dare Ti do l'opportunità Di entrare Nell'Arsenal Dei futuri campioni Ma che stai a fa' Oh Ma sei un taccagno pulcioso Posto che poi il pulcioso So io ragazzi Perché sti soldi Io ce l'ho Ma non glieli voglio dare Ok Vediamo se si incavola Oh Mosa rabbia Mosa rabbia Oh Vai Portatela a casa Ma è lavoro in banca Porca miseria Ok ragazzi Ci abbiamo tutto ormai Forse il portiere Potremmo fare Ma Piano di crescita Allora Vediamo un po' ragazzi Ha qualcosa in più intanto Uh Già è salito Praticamente L'ho comprato E' già 81 Perfetto Allora Se lasciassimo Equilibrato Salirebbe un po' In tutto E il che è buono Visto che ha già 80 Di dribbling Oh Mo si che fischia Allora ragazzi Si ridisegna La formazione titolare Allora di William Ne faremo Volentieri a meno San Maximean è morto Che gli è successo già Eh beh E' una squadra un famella Questa squadra Che ha battuto 7 a 2 Il Liverpool In circostanze un po' Particolari Eh però Torna in campo Pepe Dal primo minuto Dall'altra parte C'è di nuovo Saka Che non ha portato benissimo Non ha giocato A granché Contro il Wolverhampton Però Mister Spettacolo Gli vuole dare di nuovo Un'occasione Soprattutto A guidare l'attacco C'è Pierre-Emerick Sebaio Eccolo qua Pepe Su assist di Pierre-Emerick 1-0 1-0 1-0 1-0 Pepe Vicino A uscire Dall'Arsenal Offerta importantissima Dell'Atletico Madrid Rifiutata Da Miss Spettacolo Perché sa Sa che può recuperare Questo giocatore Che l'anno scorso Ha fallito Dopo essere stato acquistato A orti 70 milioni di euro Dall'Arsenal Eh ma non c'era Miss Spettacolo A muovere i fili Eccolo Saka Il giovanotto 18enne Tra l'altro ragazzi Partita super bloccata Un tiro Un gol Zero tiri Zero gol Oh attenzione L'ho chiamato L'ho chiamato No Zitto Mike Oh 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 Che succede Buco Riparti 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 Vai Pepite Vai Pepite Guarda il 5 No vabbè Non gliela ha data Vabbè Non fa niente Pepite 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 Niente L'ha persa Ragazzi a soffrire al novantesimo Guardate le occasioni Dell'Aston Villa Da quando sono entrato io Come sono salite Chiudi 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 No 1 al novantesimo Ma dai Raga Scriptatissimo Al novantatresimo Mi hanno segnato Due di recupero Mo batto e finisce Dai Che scam Che scam Ma no Ma è una scammata Ai E' vergognoso Gli è scandaloso Sinceramente Ma io dico Quando Il cronometro Eccede di minuti Rispetto al tempo Regolamentare Di gioco Bisogna un attimo Fermarci A capire A pensare Che cosa sta succedendo In questo calcio Io lo trovo vergognoso E scandaloso Oggi siamo stati scammati Signori miei Veramente io E mi dissocio Dalla conduzione arbitrale Di questa partita Io Capisco che Facciamo paura Capisco che Un'arsenal Così competitiva Non si vedeva Da un po' Però Dobbiamo Dobbiamo essere più continui Stiamo facendo Su e giù Su e giù Non va bene Quindi Rimettiamoci al lavoro E speriamo di rispondere Presenti Già dalla prossima partita Intanto ragazzi Si passa All'ultimo giorno Di mercato Miss spettacolo 75 Una merda Proprio No Ciro immobile 109 milioni Al manchester No Aspetta Aspetta Vediamola sta roba Guarda Pazzi Pazzi Io direi Che il mercato È stato eccezionale Il nostro Almeno il nostro Cioè abbiamo fatto Proprio tutto quello Che dovevamo fare Interesse per Conadel Valencia Va bene così Chambers È stato venduto Perfetto Spettacolo Il più richiesto Cioè Diverse nazionali Hanno espresso il loro interesse Nei confronti Dell'ottimo mister La Cina attualmente La cerca un nuovo allenatore L'India Il Canada Non avrei voluto Ma devo farlo Devo entrare in campo io Conto il Leicester Che non è partito benissimo Però Neanche noi Quindi Ce la dobbiamo giocare E ce la giocheremo ragazzi A due punte Pazondaga Aubameyang Soposly Leicester City Arsenal È questa la partita Che potrebbe decidere Le sorti Di questa squadra È iniziata un po' male L'avventura Di entrambe le squadre Sconfitta brutalmente Dal Manchester City Il Leicester L'Arsenal Scammata E Sconfitta Dal Wolverhampton Lavorare sulla mente Dei suoi giocatori Giovani Però Sicuramente avranno Un futuro Un potenziale Clamoroso davanti Ma lo devono dimostrare Questa è la formazione Del Leicester Un po' strana Tammy Abram Lì davanti È stato venduto Jamie Vardy L'uomo simbolo Dell Leicester L'uomo simbolo Di quel campionato Vinto Con Ranieri In panchina È stato venduto Pensate Al Real Madrid Jamie Vardy Al Real Madrid Fa già ridere così Oggi invece L'Arsenal Punta su una formazione Un po' diversa Soprattutto dal punto di vista Tattico Thomas Partey È la punta bassa Del diamante Del rombo Di centrocampo Con questa formazione L'Arsenal L'ha schiantato Il West Bromwich Non capisco perché Infatti Non sto usando Sta formazione Comunque Si gioca Di pomeriggio Come al solito È blu contro rossi Partita classica Del bigliardino Si stacca Beyerin Bravissimi Fazzondaga Ci arriva Sì Però troppo lungo Con il passo Cos'è tipo La quarta palla Che prende Dall'inizio Dalla sua avventura L'Arsenal Non ha fatto niente A parte segnare Una macchinetta Ci prova Pierre Meick Nono sia proprio Pomegano Ok 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 Si salva qui L'Arsenal Suopo Sly Si aspetta Bravissimo Ancora Cavavinga Beyerin No Hector Grandissima parata Di Smychel Figlio d'arte Figlio di Peter Smychel Grande avversario Dell'Arsenal Vabbè Vabbè Quando era Il portiere del Manchester United Comunque ragazzi Con sta luce Non si vede una ceppa Non so voi Non so voi Ma non si capisce Aspetta il movimento Di Ah Ma il Bambiang Forse è in fuorigioco No Non è in fuorigioco Pazzandaga Accoglie lui Il cioccolatino Il pasticcino Di Pierre Meick Il Bambiang E qua Si vede la forza Del leader Qua si vede la forza Di un giocatore Che non pensa solo A buttarla dentro Non è egoista Ma però si è inventato Tutto Dovemmo partire così Pazzondaga Appoggia Di sinistro Esulta come un pazzo Il crazy Pazzo Uuuu Pazzondaga Mister spettacolo Soffia Sbuffa Sa Attenzione Attenzione Bello sto passaggio Questo che cacchio era Non si sa Ma c'è Beyerin Attenzione ancora Ancora il Leicester Ancora vivo Leicester No Beffato Da un passaggino Stupidino Però di nuovo Saliba Un po' Così eh Uno su cui puntare Sicuramente Pierre Meick Senza paura Però non lo appoggia nessuno Squadra Chelsea e Manchester United Stanno pareggiando Quindi potrebbe essere La nostra occasione Di aggredire Sta classifica Camavinga Bello il break Vai Ah albero Calcio di rigore Questo eh Calcio di rigore Tutta la vita Tutta la vita Questo è mezzo pazzo Eh no 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 È dentro È dentro È dentro Allora I rigori chi li batte 78 Mamma mia ragazzi Propri i rigoristi Non esistono Ci va Pierre Meick Ma che ne sai tu Dei sogni Mamma mia Che culo Segna E fa la capriola Pierre Meick La rata di istinto Quella del portiere Dai Bisogna riscattare Partite Un po' opache Da parte dell'Arsenal Bella La pressione Camavinga Camavinga E intanto ragazzi Esordio Per Cook Il giovanotto Del Dell'Arsenal 17 anni 94 di fisico Bravo Tierney Ci fa capire perché Non doveva essere venduto A nessun costo Uh Proprio Proprio Se proprio Vogliamo essere Sopo Sla Ma che tocco Pierre Meick È l'uomo in più È l'uomo in più Di questa Arsenal È l'uomo in più Di quest'Arsenal Detto fatto Detto fatto Guardate che tocchetto Stic Lo manda in porta Poi sobo Oh Pazzo 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 Che fa Che fa Che fa Il verme Il verme Pazzo Qua il roraccio Della difesa Che sotto pressione La sbaglia La vince pazzo Si invola Verso la porta E spam Comunque ragazzi Quando vinciamo Ne facciamo tanti Ci avete fatto caso? Dobbiamo capire Sta questione Di simulazione Come Come aggiustarla Come aggiustarla Inisce così 4 a 1 Si riscatta di nuovo Miss Spettacolo È una girandola di emozioni È un su e giù Un rollercoaster Va a ringraziare Brandon Roger Per dirgli Meno male che siete scherzi voi Questa vittoria ci riavvicina Al gruppo di testa Vedete Siamo solo a 3 punti Dal Liverpool Quindi Adesso Viene Il bello Un saluto a tutti Amici Ciao 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 Ciao